Ciao a tutti, ciao Augusto, grazie per questa splendida nomination, direi meritatissima ma passa niente, spero di vincere anche io l'Oscar come il grande Sorrentino detto questo faccio a mia volta le mie nomination, il tema ve lo lascio libero quindi una vostra interpretazione, un vostro brano, quello che vi pare allora le nomination sono per i maschietti il mio amico bassista Saturnino Celani in arte Saturnino e il mio amico insomma Michele Riccardo Tarantino, grande delle console di tutti i club del mondo per le femminucce la bella Valeria Puzzo e Elena di Costanzo, altrettanto bella, direttamente da Berlin questo è il brano che è stato scelto per me, ma passa niente, ci provo, vai grazie a tutti il mio amico insomma il mio amico insomma è stato scelto per noi, ma è stato scelto per me, e però non sono come una buona Quei suoi caprici ti mancano tanto, le sue pensiade per il culo passate, quando morire a chi è il tuo fraccio. E' un successo, 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 e' un successo. E' un successo, 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 e